Eccoci, allora noi cominciamo a suonare per questa giornata di danze, cioè giornata ormai serata e vi ringraziamo per averci invitato, stiamo molto lieti di stare qua in duo perché in duo a questo posto non ci siamo ancora a stare e cominciate con un manzo da palle, diciamo, una pure niente Grazie a tutti 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 Grazie a tutti